Già li si dilettano con la lingua inglese Claudia, in una stanza recondita del collegio inizia ad avvertire tutto il peso dell'isolamento Non sono felice di stare qua Voglio stare con i miei amici Non mi fa male questo Voglio stare da loro, voglio andare a fare casino e tutto il resto Non voglio andarmeli, non voglio lasciarli Oh